Ho firmato gli autografi? Non ho ancora. Perché no? Adesso appena arrivano a chiedermi di rifirmarlo. No, perché quando ho firmato tutti gli autografi ti ho firmato. Ah sì? Sarò più scarso, ragazzi. Questo è indubbio, non c'era bisogno degli autografi per saperlo. È vero? Senza telecamera. Da che parte riprende? No, non vorrei farmi il selfie. Dove c'è l'obiettivo riprende. Così a caso vado? Non parlate troppo. Non lo so, ne ho adottato. Ma lo stai riprendendo? Spesso di sì. Perché ti riprendo? Facciamo una riprenda. È un po' pizzicosa? È tipo la gottata. Non so se sto riprendendo, me la lascia con il mano. Non so se sto riprendendo, ma la lascio con il mano. Non vedi qua, con il suo lavoro. Ma la lascio con il male. Riprendiamo Matteo. Matteo, di qualcosa alla stampa. Matteo, di qualcosa alla stampa. Ciao. Ti prendiamo Amedeo che fa gli autografi. Non so se sta riprendendo. Non so se è accesa, me la piace. Si lampeggia? Ferma. 1,03 euro. E guarda. Non dirlo a nessuno. Non sta andando, sta andando avanti. Ah no, minuti. Batteria scarica. Ah, io ho detto ai bambini, dite qualcosa e non parlavo. Guarda che c'è la batteria scarica. Guarda che c'è la batteria. 1 ora e 39. Vabbè. 1 ora e farle sicura di che la potrai ritare. La potrai ritare. La potrai ritare. C'è dell'emozione nel vedere i bambini che firmano gli autografi. La potrai ritare. Si, molta emozione. Vero? Per me è pazzesco. Sopra tutto vedere quel cretino che firma degli autografi. No, no, no. No, no, no. C'è l'inizio. Vero. Ma se l'ho inventata loro? Si. Pazzesco. Davvero, è super emozionante. Bellissimo. Ormai gli abbiamo fatto lasciare cosa passione. Guardate, io sono molto contento di qua. L'obiettivo tre anni fa era proprio qua. Molto bello. Un po' calma. Un po' calma per vedere belle cose. Questo? Certo, sta andando. Perché la Paola era così metodologista. Hai delle dichiarazioni da fare? No, nessuna. Forza squeeze! Pulci un messaggio ai tuoi amici come tre anni fa. Forza squeeze!